In manette per associazione a delinquere è finita un'intera banda, la maggior parte della quale stipendiata con il reddito di cittadinanza. Ma non solo, due di loro ad inizio anno erano già finiti nei guai. Sono infatti gli stessi del commando che aveva terrorizzato gli automobilisti travestendosi da finti poliziotti e rapinando anche con violenza in dei casi i malcapitati tra le province di Arezzo e Perugia. I due sono accusati di far parte di un vero e proprio consorzio familiare dedito ai furti in casa, messi a segno anche nell'Aretino, Dagnari a Cortona passando per il comune capoluogo. In genti bottini, soprattutto orologi, denaro e gioielli, ma anche tv e carte di credito. 16 in tutto gli indagati, uomini e donne, con precedenti per reati contro il patrimonio, descritti dai magistrati come ferati e senza scrupoli. A smantellare l'organizzazione sono stati gli investigatori del commissariato di polizia di Assisi. La banda, secondo gli inquirenti, poteva contare su una struttura molto articolata che comprendeva basi logistiche definite, auto di grossa cilindrata per affrontare eventuali inseguimenti da parte di forze dell'ordine ed una sistematica distribuzione dei compiti. I colpi venivano infine pianificati sempre dopo un attento sopralluogo.